La cistecca montese è un prodotto nato a Monte di Procida. Questo elaborato di carne è composto da cinque pezzi del bovino adulto e attraverso una lavorazione speciale prendiamo questo prodotto unico nel suo genere. La cistecca montese nasce dalla contaminazione della cucina americana con quella di Monte di Procida. Alcuni imprenditori di ritorno dagli Stati Uniti d'America portarono con sé quest'idea elaborandola con alcuni macellai di Monte di Procida portarono alla realizzazione di questo prodotto. La cistecca appunto fu successivamente elaborata e migliorata negli anni e adesso diventa uno dei pilastri fondamentali della cucina di Monte di Procida. La macelleria Chama nasce nel 1800 con l'idea del mio bisnonno. Adesso io rappresento la quarta generazione di macellai. Siamo conosciuti per la lavorazione di carni pregiate e dagli anni ottante il nostro nome associato a quello della cistecca montese che è un prodotto di qualità e unico nel suo genere. La macelleria Chama è uno dei soci fondatori del consorzio della cistecca montese nato a difesa e a tutela di questo particolare prodotto, siccome subisce continuamente contraffazioni e falsificazioni.